Sono 31 i pannelli che costituiscono la mostra Il Rinascimento dei Bambini, allestita a conclusione del percorso progettuale Scuola e Volontariato del Centro Servizi per il Volontariato d'Abruzzo. Fino al 30 aprile la Fondazione Pescarabruzzo ospiterà dunque l'esposizione, curata da Mariella Carlotti, che ricostruisce celebra i 600 anni della Fondazione dell'Ospedale degli Innocenti di Firenze, un'opera sociale tuttora attiva nell'accoglienza dei piccoli, orfani e abbandonati. Dedicata ai bimbi ucraini, la mostra, presentata nel 2019 in occasione del meeting di Rimini dal Banco Farmaceutico, sarà aperta al pubblico con ingresso libero nei locali della Fondazione Pescara Abruzzo, in corso Umberto I a Pescara, fino al 30 aprile, per poi essere allestita dal 5 all'11 maggio nelle sale della provincia di Chieti, in corso Marrucino. Scelta dal CSV, la mostra sulla Fondazione dell'Ospedale degli Innocenti diventa esempio dell'alto valore del volontariato come impegno di un'intera comunità al servizio del bene comune, come racconta il Tg8 anche Casto di Bonaventura, presidente del CSV Abruzzo. Questa mostra nasce come conclusione di un percorso che è quello di scuole volontariato, un progetto che abbiamo in tutta la regione che vede impegnate le scuole superiori e i ragazzi delle scuole superiori un'esperienza di volontariato. Abbiamo immaginato che questo percorso dovesse finire con un evento che mostrasse come gratuità, bellezza e carità possono stare insieme e quindi come la gratuità, elemento essenziale per la scoperta del desiderio di bene per l'altro, è un elemento imprescindibile dell'azione volontaria. Quindi questa mostra esemplifica in qualche modo come dalla creatività di una persona possa nascere il desiderio di bene comune. Ma per fare questo non basta una persona, ci vuole un'intera comunità. Ecco quindi speriamo che i ragazzi imparino anche attraverso questa mostra come un piccolo seme che può essere il loro impegno possa poi diventare qualcosa che fruttifica e che rende la società più degna di essere vissuta. In fondo questa è l'esperienza che noi chiediamo ed è una delle attività fondamentali del nostro centro servizi perché la promozione del volontariato, la valorizzazione del volontario in quanto tale anche relativamente alle competenze e alle conoscenze è un elemento imprescindibile della nostra azione. Siamo nati per questo fondamentalmente e questo è anche il nostro compito istituzionale. Crediamo che questa mostra rappresenti proprio un punto di partenza importante per la scoperta di una comunità che in qualche maniera si impegna. Pensate che all'inizio chi ha donato, ha donato mille fiorini. L'opera per essere completata ne ha avuto bisogno di 31.700 fiorini d'oro. Significa che la comunità ha operato intensamente affinché questa opera potesse essere realizzata. In più parliamo di rinascimento dei bambini, rinascimento morale, umano e soprattutto un'attenzione alla persona che di fatto vorremmo ci fosse anche oggi. Inoltre ricordo che questa mostra l'abbiamo un po' dedicata ai bambini dell'Ucraina perché capita in un momento molto particolare, in un momento dove effettivamente ci sarebbe molto bisogno di una comunità coesa e che abbia desiderio di pace e di verità.